Il Papa si salverà di Stefano Campanella Padre Pio ebbe per Pio XII una immessa venerazione sia come successore di Pietro sia come santo sacerdote e solo il Signore e la Vergine potrebbero testimoniare sulle preghiere i ricordi amorosi nella celebrazione del Divin Sacrificio i sacrifici e le lacrime nei momenti di difficoltà del Sommo Pontefice ne fu testimone diretto Francesco Morcaldi durante la guerra si legge nelle sue memorie venne richiamato in servizio militare alla morte della mia compianta consorte ottenne il trasferimento da Taranto a Benevento venne addetto alla censura militare il 13 settembre 1943 fui posto in licenza di 30 giorni in attesa di congedo mi recai a San Giovanni Rotondo dove mi colsero gli storici avvenimenti a tutti i noti mi impressionò fortemente la notizia che le truppe tedesche avevano occupato Roma invadendo il piazzale e la gradinata di San Pietro corsi al convento dove trovai il padre Pio seduto accanto al letto del padre Bernardo Masone da Pietralcina gravemente infermo nella stanzetta accanto al Sacellum gli comunicai la grave notizia ne fu fortemente scosso sino alle lacrime subito si accomiatò dal malato si portò nel coro della chiesetta Ivi lo raggiunse di lì a qualche tempo per accomiatarmi era inginocchiato assorto in profonda preghiera il capo tra le mani attese infine non potendo trattenermi più a lungo mi avanzai egli sollevò il capo e vidi il suo volto sconvolto e rigato dalle lacrime lo salutai mi porse la mano che baciai rispettosamente la sentì percorsa da fremiti s'avvide dell'emozione che mi assaliva mi fissò e cicillo mi disse il papa si salverà nessuno dei due sapeva umanamente cosa in realtà stesse avvenendo a Roma e in Vaticano sono comprensibili quindi la meraviglia lo stupore e la commozione da cui fu colto l'ex sindaco di San Giovanni Rotondo quando lesse sulla domenica del Corriere alcune sensazionali rivelazioni dell'ex generale Karl Wolf che comandò le SS in Italia durante il periodo della Repubblica di Salò dopo l'8 settembre ci fu l'occupazione di Roma e tedeschi stesero intorno alla città del Vaticano un cordone di polizia ma trascorsi alcuni giorni il generale Wolf fu convocato da Hitler che gli disse nel quadro delle contromisure per il tradimento di Badoglio le ordino di occupare al più presto il Vaticano di mettere al sicuro i suoi archivi e i suoi tesori e di portare al nord il papa e la curia prevedendo gli sviluppi politici e militari dell'attuale situazione voglio trasferire più presto il pontefice in Germania o nel territorio neutrale dell'Istestein in pratica le SS avrebbero dovuto portare via dal Vaticano il pontefice i cardinali di Curia tutte le persone che in qualche modo vi abitavano cioè anche gli ebrei e gli antifascisti che vi avevano trovato asilo nonché il tesoro, i quadri e sculture l'oro, la valuta estera tutto insomma e con i cardinali di Curia anche il patriarca di Venezia il cardinal Schuster arcivescovo di Milano per giustificare il gesto oltraggioso si sarebbe scoperto un qualche documento da cui far risultare che il Vaticano era in combutta con Casa Savoia e che aveva provocato la caduta di Mussolini documenti e gente disposta a testimoniare si trovano sempre l'alto ufficiale dinanzi a Hitler non poteva che rispondere agli ordini di mio Führer ma nel suo animo si ribellava all'idea non sono credente avrebbe ricordato molti anni dopo ma comprendevo chiaramente che un gesto simile sarebbe stato ricordato per sempre e con infamia nella storia non volevo in nessun modo legare il mio nome a un fatto di questo genere cercai di prendere tempo agli inizi di dicembre del 1943 annunciai a Hitler che i preparativi per il rapimento del Papa erano finiti e che io ero pronto però lo informai anche sulla reale situazione dell'Italia occupata dalle nostre truppe mio Führer disse ancora devo dare il via all'operazione contro il Vaticano oppure devo continuare nella politica della mano leggera in Italia le sue parole convinsero Hitler a rinunciare al progetto di rapire il Papa un progetto rimasto per molti anni a conoscenza di tre sole persone il Führer Wolf e Himmler padre Pio sapeva non solo che Pio XII era in pericolo ma dopo preghiere e lacrime sapeva anche che il Papa si sarebbe salvato la filiale devozione del capuccino stigmatizzato verso Pio XII giunse a toccare le vette dell'eroismo tra la fine del 1953 e l'inizio del 1954 il Santo Padre ebbe un vero e proprio tracollo fisico da stress lo stomaco rifiutò di ricevere qualsiasi cibo vomito continuo e nausea se alternavano ad un interrotto terribile penoso singhiozzo le uniche pause erano brevi i sonni di mezz'ora si dovette ricorrere alla nutrizione artificiale per alleggerire completamente lo stomaco insomma cominciò veramente una gara con la morte padre Pio anche per richiesta espressa della sorella del Papa e per invito della segreteria di stato di sua santità durante la grave malattia del Santo Padre non solo promise preghiere e supplica al Signore per la sua guarigione ma arrivò ad offrire la propria vita in cambio di quella del suo vicario che il Padre amava e venerava in modo particolare qualche tempo dopo il Santo Frate fu costretto a letto con febbre altissima ricorderà Padre Costantino Capobianco io ignaro della cosa non sapevo a che attribuire quell'improvviso ammalarsi del carissimo Padre ma il molto reverendo Padre Agostino molto addentro al segrete cose disse di quell'anima singolare mi disse ma perché gli fanno sapere certe cose Padre Pio si è ammalato perché ha saputo che il Papa è in grandi angustie e ogni volta che sente notizie simili si ammala il buon Cireneo prendeva sulle sue spalle anche la croce del Vicario di Cristo ma il Signore agì da Signore guarì miracolosamente il suo servo buono e fedeli basta leggere sulla stampa del tempo la rivelazione fatta al Padre Rotondi in merito all'improvviso guarigione e non volle da Padre Pio nulla in cambio infatti il Padre continuerà il suo postolato di redenzione e di salvezza ancora per tre lustri il Santo Padre Pio XII una volta guarito e venuto a conoscenza dell'eroica offerta del Capocino di San Giovanni Rotondo da lui stimato difeso nonché delle suppliche elevate al cielo insieme con i suoi figli spirituali tramite Sua Eccellenza Monsignor Giambattista Montini all'epoca pro-segretario di Stato di sua Santità che poi sarebbe divenuto Papa Paolo VI si benignò di scrivere una lettera alla Curia Generale dei Capocini nel testo si esprime il gradimento del Santo Padre per le preghiere fatte al Padre Pio da Pietralcina e per il suo interessamento ad altri al fine di ottenere dal Signore la guarigione del Sommo Pontefice e si prega pure di comunicare tale gradimento unitamente all'apostolica benedizione di Padre Pio e agli altri questo in sintesi il rapporto personale fra due uomini di elevata spiritualità ma non è escluso che fra i due ci sia stata anche un'intesa più alta visto che entrambi hanno condiviso esperienze mistiche di una fu testimone diretta la segretaria particolare di Pacelli suor Pascalina una sera il primo dicembre 1954 ha scritto in un suo libro di memorie riferendosi al periodo in cui il Papa era ancora molto malato mentre eravamo inginocchiati intorno al letto del Santo Padre e terminato il rosario avevamo appena ricevuto la sua benedizione Pio XII disse ora ho sentito di nuovo una voce avrò una visione non capimmo che cosa il Santo Padre intendesse dire dopo che tutto fu preparato per la notte lasciamo la stanza dell'infermo al mattino quando lo preparammo per assistere alla Santa Messa il suo volto splendeva di gioia il celebrante gli recava ogni mattina la Santa Comunione circa mezz'ora dopo portavamo al Santo Padre la colazione così fu anche quel giorno bussai ma poiché non udì risposta entrai anche al mio buongiorno non rispose notai tuttavia che il Santo Padre giaceva nel letto con gli occhi completamente aperti e raggianti posai il vassoio sul tavolo e accostai ai piedi del letto e gli chiesi stupita santità che cosa c'è là dove ora si trova lei c'è stato poco fa nostro Signore quale Signore Padre Santo chiesi il nostro Redentore Gesù Cristo alcuni anni addietro il pomeriggio del 30 ottobre 1950 due giorni prima della solenne definizione del dogma dell'assunzione della Vergine Maria al cielo in corpo e anima Pio XII fu protagonista di un altro evento sopranaturale tornando dalla sua consueta passeggiata nei giardini vaticani casualmente alzando lo sguardo verso il cielo aveva assistito a uno strano spettacolo il sole ancora abbastanza alto gli era apparso come un globo oscuro tendente al giallo circondato da un cerchio brillante una leggera nuvola luminosa era sospesa dinanzi a esso il globo oscuro si spostava leggermente ora a destra ora a sinistra mentre all'interno di esso si poteva notare che vi era di continuo un fortissimo moto lo spettacolo era meraviglioso si poteva fissare lo sguardo nel sole senza rimanere accecati in pratica dinanzi agli occhi del pontefice si ripete il miracolo del sole dell'ultima apparizione della madonna ai tre pastorelli di fatima ciò gli accade altre tre volte nei giorni seguenti anche in presenza di altri che invece non notarono nulla a rivelare pubblicamente questo prodigio fu il cardinale Federico Tedeschini lo stesso che il 2 luglio 1959 avrebbe incoronato il quadro della madonna delle grazie nella chiesa conventuale dei capucini a san giovanni rotondo grazie a tutti Grazie a tutti.